signori sono le sette di mattino mi sveglia con gli emperor ma che sveglia quello che voglio portarvi oggi non è solamente un contenuto di una recensione scritta e recitata a pappardella bensì vi voglio raccontare cosa c'è dietro questo viaggio che ho fatto le emozioni tutte le mie sensazioni di retroscena vi voglio far vedere che cosa vuol dire alzarsi la mattina alle 7 e poi alla fine non è neanche tanto presto per fare 600 chilometri e vedere lì sul palco i tuoi idoli allora regà sono praticamente le 7 e 05 io sto andando a prendere il treno per andare a roma a prendere il treno per andare a milano a roma ovviamente mi incontrerò con virginia e niente ansia no che cos'è comunque fa un freddo ma un freddo regà micidiale ma micidiale oltre ad avere l'ansia ovviamente per andare a vedere di nuovo i mei e gli emperor questa volta l'ansia che avevo era più che altro per il viaggio se per sé perché purtroppo in passato ho avuto dei vari imprevisti per quanto riguarda le trasferte e una volta pensate ho letto male il l'orario del treno pensavo con la mia migliore amica che stavamo andando a bergamo che dovevamo prendere il treno più tardi in realtà era molto prima quindi niente avevo un po di ansia per questo e altri motivi siamo alla disponibile dobbiamo prendere il treno e andiamo a prendere il treno sappiate che in quel momento la macchinetta aveva deciso di non aiutarmi e quindi niente praticamente ero quasi intento a dargli un cazzotto per tirarmi fuori quel biglietto però alla fine me l'ha stampato e quindi niente mi incammino verso il mio binario che è sempre il solito senza che neanche l'ho controllato e quindi aspetto che arriva il treno avvisiamo la socia che sto arrivando a roma avevo calcola sto a prendere il treno alle 7 e 28 sto qua e dovrei arrivare a roma per le 8 e mezza forse anche prima socia avvisata e niente facciamo il treno il treno arrivato erano le 7 e 30 7 e 45 giù di lì comunque sia ovviamente è vuoto perché essendo domenica il treno era abbastanza vuoto e sì c'era un po di gente qui alla dispoli a prendere il treno però non mi ha penalizzato per trovare il posto anzi l'ho trovato tipo subito dormitina e si arriva a termini tranquillamente proprio finendo scherzando siamo arrivati a termini devo fare colazione ma sentimo la nostra virgine e non fa niente andiamo ma te devi fare colazione adesso andiamo a recuperarla e magari ho il sonno raga che manco ve lo immaginate sono tre giorni che sono tre giorni che mi sveglio presto una cosa allucinante indovinate dove posso andare a fare colazione anche oggi proprio per non farci mancare niente no visto e tanto c'è mangio poco no c'è mangio poco armec no non c'è mangio tutti i giorni allora ho fatto colazione io questa fra poco la sento tutta mi toccherà correre al bagno sicuro conosco il mio mac è arrivata virginia adesso andiamo a raccattarla e si parte sono le 8 e 44 e ci sta aspettando qua la libreria di termini adesso lo andiamo a prendere mamma se blocca il coso lo stè vabbè dovrebbe sta qua salve buongiorno 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 siamo carichi? siamo carichi? praticamente ci sta in mezza comunità metal romani nooo che stai a dire stanno spizzati 3-4 mamma mia mamma mia fermi tutti fermi tutti perfetto non ci abbiamo tempo eh oh hoia fino alle ai 10 fino alle 10 che ci abbiamo il treno perfetto tranquillissimo lanza voglio che non so se si vede ma tanto qua non ci stanno ora racconta un po' i pischelli che hai beccato sulla metro tizio e tizio ma i amperom e ma i ameiem da roma se beccammo su se beccammo su tanto giretto tattico alla libreria prima di via il treno tanto hoia qua scusa che se comprammo questo de guini de vu no mo la se lo facciamo autografata attila se lo facciamo autografata mamma mia sa che taglio vai lì attila non mi voglio autografare questo trum questo lo voglio assolutamente tanto me lo sto pure a recuperare no richi e morti ma quindi ma quindi questa è il sopra è il sotto cioè il sopra è il continuo di quella che sta sotto ah è vero io me lo scordo sempre ah qui reparto tolkien musica rock 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 qui c'è tipo l'arbero di natale con le palle con tutti i desideri e abbiamo scritto Allora, c'è scritto praticamente Il mio desiderio è E Virginia ci vorrebbe scrivere Vedere Varg morto Vedere Varg Eccola, lo sta scrivendo E via E con questa Abbiamo sancito Ce ne possiamo anche andare Dobbiamo lasciare il nostro segno Allora, abbiamo il binario Che è binario 10 Eccolo Il nostro binario A questo Però il treno Non c'è No, dillo bene Qual è il binario nostro? Binario 666 Binario 666 Ci vuoi mandare la caratteristica Nice Io devo andare alla carrozza a bagno Io andrò Guarda che sto frenutato quello De posto Ah, perfetto È il mio posto Sta borsa la odio Porca miseria Per forza Per forza Per forza Noi quale abbiamo Standard Perché siamo poveri Già tanto Se morisci di andare a vedere meglio Però a ritorno Stiamo su Italon prima Quindi Con i portoni larghi Per dormire A ritorno Doca dormi Per forza Anche perché poi lavorerò io Io torno Io praticamente torno a casa E vado al lavoro Staccare i 5 Da Salerno viene questo Da Salerno viene questo Salerno va Come direbbe qualcuno Famo partì sto treno Famo partì sto treno Eccoci qua Mamma mia Belli comodi Vabbè raga Io so che mi devo levare il cappello Guarda è la maglietta Delle elvete Che messa così sembra Bello comunque Il posto qua c'è il Veno Signori Questo è qua che vedete vuoi Potrebbe sembrare nebbia Ma in realtà sono nuvole Beh noi stiamo in mezzo alle nuvole E Guarda Non so se Se lo potete vedere Comunque Io lo vedo bene qua sopra Perché se vede pure il cielo Cioè è una figata pazzesca E vi dedichiamo Hergost in the Fog Mamma mia Fredrofield Comunque che stavi a dire Delle pecore Che in Norvegia Che in Norvegia I norvegesi salutano le pecore Perché è forza fortuna Poi ti domandi perché Poi te domandi perché La scena black È quella che è Che loro salutano le pecore F***a La fermata della metro A Bologna Manco possiamo A silent Ma qua Qua non stiamo a Bologna C'entrata Qua stiamo a piazza A Bologna A fermarla Manco Quintiliani E' così Ma stiamo a fermarla A mezzo all'autostrada Guarda che roba Ma nel biglietto E' compreso il petaggio Dell'autostrada Giusto 12.58 Regali Fanno una fame Ponte dopo dove andiamo a mangiare Io posso No 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 A parte già l'ho detto Nel L'ho detto Stamattina La vicina La stanza La vicina Armec Scusate Scusate se è poco Poco Almeno Abbiamo anche cibo Perché tu Dopo il concerto Che fai Vai Armec A mangiare Almeno Mangiamo qualcosa No Non mangiare Niente Vai a fare una schemicata Di due Oh A voglia Vedrete Mi ordino tutto Tutto in stanza Ecco 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 Guarda che spettacolo Allora Guarda Pallice Rosso Pomodoro Senti Che Aria Di Milano Senti Aria Buia Mamma mia Donna Ma qua Come fanno Ma fa un freddo Della madonna Aho Ercole S'ha arrivato A Milano Adesso Fammi indovinare Il Mech E' Quello Grande C'è pure Una pizzeria Però Sì Guarda Capace Assolutamente Mamma mia Signori Questa è la stanza E io dormo Pronto qui Ci stiamo preparando Cor Cor Cappello Ma Dillo 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 al mondo intero Che cosa ho fatto Non mi ha portato da McDonald's Scusate Se ci bagno tutti i giorni Scusate Questa sera Stasera Stasera mi tocca Portarla da me Se no questa Mi caccia via Maleus Maleficarum Io vorrei portare All'attenzione Delle persone Questo ascensore Quattro persone Allora Non lo so Se la mettono La quarta Perché A terza Pure Perché Qua stiamo Allora Stiamo andando A prendere La metro Precisamente Qui Centrale Proprio Subito Easy Allora Siamo appena Finita la metro E Andiamo Siamo arrivati Intanto qua La signora Si sta preparando Mi esprime un desiderio Vabbè È pronta Signora Andiamo Scusate Vi arrivo a Tentino Ok Perfetto Aspetta Oh Do vai È rosso Do vai Ma che stanno Quella è passata Allora Dovrebbe essere Qua praticamente Si Se non è questo bianco È tipo Poco poco più avanti Allora Anzi Anzi Ne abbiamo Mamma mia Troppo Troppo Siamo arrivati All'Alcatraz Praticamente E C'è un po' Di fila Noi Ce ne sbattiamo Mamma mia Ansia 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 Più totale Vai piano Vai piano Sì che è una piano Ti devi votare intorno Quello che c'è Ti devi votare Ti devi votare intorno Ah Eh vabbè C'hai ragione Pure te Vi evito Tutto il pezzo In cui facciamo La fila Perché non è successo Niente di interessante E ci siamo messi Un po' a parlare Con Delle persone Che erano Lì in fila Abbiamo fatto Un po' Di amicizia Ma Niente di che In realtà Andiamo direttamente Al sodo Che stirrede Noo Che stirrede Mamma mia Che stirrede Che stirrede Che stirrede Che distractions Che蓮 cha Massai Non Come Begab Allora Vai ridice come Purtroppo Non ho registrato Va bene Dicevo bravissimi Da batterista Di quel batterista Incredibile E il cantante bassista Tanta roba Bravissimi Quando iniziano Spettacolari Spettacolari Cioè mi sono casato a merda Non si può descrivere la bellezza Tutto Allora io dicevo Ho detto In poche parole Mi sono piaciuto tantissimo E il cantante Mi è sembrato Arrancarsi un pochino all'inizio Però poi ha scaldato la voce Tirato fuori proprio il meglio di sé Ma la smitragliata invece che ha tirato una certa Sull'ultima canzone Il batterista Porca puttana Porco due Ne va stante Non lo so Vai con sto cambio palco Oh Che c'è sta là dietro Purtroppo dentro ho potuto registrare poco e niente Per via del poco e del casino Comunque se volete recuperare qualcosa Vi lascio Nelle storie in evidenza di Instagram Tutte quante le storie che ho fatto quel giorno Insomma come sono stati Hanno spaccato Mamma mia Allora Allora Parliamone Parliamone Io ho già la voce Quella che è E già si senti Però Allora I meglio Così a caldo Hanno dato molto di più De quando sono stati all'Oryon I meglio I meglio Qua hanno spaccato una cifra Gli Emperor Come stava di prima Se non li vedi live Non puoi proprio capire Cioè Una cosa allucinante Veramente Veramente allucinante Mamma mia Ah e comunque Questa ce la siamo portata a casa L'ultima Tipo mancava l'ultima Cioè ce n'erano due Porca miseria Sono riuscito a portarmela a casa E quindi niente Una mamma mia E' erano Però Questa cosa E' da capire Dalok e Attila Tutti pitati Quell'arte tutti tranquilli Tranquilli E' da capire Ma stanno Sì sì no Lo fanno Non so perché Però Però lo fanno Ma stanno Ma ando stanno Ma torniamo Se da Roma Almeno vedi Olimpico No ma almeno vedi Che ne so Sto spignattara Eh Cosa Piazza Bologna Mamma mia Io non lo so Mo le svito le gambe Le svito Ci vado è qua Io sono di Roma Eh pure noi Già che ce so Quattro metro Cinque metro Qua so troppe Napoli 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 Non mi tocca Tornare qua Cioè regà Porco due Porco Porco due Mamma mia Fermi tutti E fermate Oh Quello Allora Sottipo le ove Dove eri Quarto Stambo 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 distrutti Uguali a ieri Proprio Mamma mia E fra poco Abbiamo il treno Io Non lo so Boh Come ci siamo arrivati Buongiorno Salve No regà No Sentite Che voce Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non mi ha piaciuto il treno Ma Lazzi Andiamo a fare colazione Ma mamma che faccia Però Questo 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 è ieri sera Appena siamo tornati Vai Mi ha fatto mangiare Che padre Che padre E E E E Ma Mi ha piaciuto Che era Vabbè Fa colazione Ci posso Di nuovo al mac Di nuovo al mac Stavamo 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 aspettando Stavamo aspettando L'annuncio del treno Più dell'annuncio del tour Dei mei Ma porca miseria Porca È pure arrivato Oh attimo Un po' come si apre E fermate Tre Pure i macchinetti Ce sono Un po' Bada Fratellino Due e tre Qua Questi Mamma mia E fermate Mi sono appena messo a sede È È È È È È Io Mi addormento Così Basta Cazzo 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 La prima classe In 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 Come L'addormenti Arrivi Arrivi a Roma No ma la cosa bella Cosa è che L'addormenti È pieno Sì Ma regà Per tanti Sarà scontato Ma per noi Che venimo da Roma Ma che è Trenord Ma che è Trenord Noi c'è E cosa Siamo solo tre In Italia Qualca miseria Qualca miseria La cosa più bella Che è La cosa più bella Ebbè Ebbè Non ci crederete mai Ma abbiamo preso qualcosa dal carrello Che spettacolo Qualcosa dal carrello che si parla di nuovo Ma Scotto come forse una bella di più che vi vi vedete? Scusa la corona Quali ti prendi te? Vado te so Ciao belli Ciao Virgi Allora rega mi stava avvenendo idea Penso Virginia mi ucciderà per questo Però Sinceramente avevo voglia di condividere Un po' con chi passa qui a Termini Il regalo di Natale più bello che potessi chiedere Io qui ho strappato il biglietto di Amperoren Mayhem E lo voglio lasciare qui sull'albero di Natale E ci scrivo proprio il regalo di Natale più bello che io abbia mai avuto E' proprio questo Tornare da Milano e Dopo aver visto Amperoren Mayhem Allora Il regalo più bello che potessi Bene signori Come al solito Per mangiare Ho perso il treno Cioè in realtà C'ho un minuto Parte fra un minuto ma Non c'ho voglia di correre perché tanto Ogni volta che corro lo perdo E quindi Vediamo Lo prendo bene Vediamo un po' Eh già signori L'ho appena visto partire E non sono neanche arrivato al binario Ottimo Story of my life proprio Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio Ormai mi conoscete bene Non mi piace portare una recensione a Pappardella Lo sapete Anzi ho preferito testimoniare quello che è il viaggio Le attese Le amicizie Le emozioni Che un viaggio del genere ti lascia Perché l'esperienza non è tanto il concerto Che per carità è stato stupendo E mi sono divertito tantissimo Le emozioni che mi hanno lasciato vedere Quei due gruppi che salivano sul palco Davanti a me Sono state veramente enormi Però c'è dietro tutto il contesto L'attesa del giorno L'ansia di non perdere il treno Lo stress Il poter condividere tutto con un'altra persona A cui vuoi bene Perché sì È bello come ho detto prima Vedere i tuoi titoli sul palco E vederli soprattutto dopo 25 anni Che non venivano a Milano Questo lo rende molto più eclatante Ma c'è molto ma molto di più dietro E spero signori con questo video Di avervelo fatto capire insomma Questa signori miei È stata un'oasi di felicità In mezzo a questo deserto di monotonia Che è la vita Ed è proprio questo Il messaggio che volevo abbassare Prima di tornare alla vita di tutti i giorni Un grazie a chi è arrivato fin qui E chi c'è stato Ci vediamo alla prossima trasferta Che tra l'altro Arriverà fra poco Ci siamo